Grazie a tutti. Grazie a tutti. A 938 euro. Date un nuovo significato alla parola relax a 998 euro. Poltrone Sofà. Solo divani di qualità. Grazie a tutti. Noi abbiamo un allarme Verishore. Ah, davvero? Come vi trovate? Siamo molto più tranquilli. E poi facilissimo da usare. Hai ragione. Lo devo installare anch'io. Tegli Verishore, l'allarme numero uno in Italia. Chiamalo 800 94 94 94 o calcola online su verishore.it. Quando scegli questo marchio puoi stare tranquillo perché dietro a Selex c'è un nuovo eroe. Spesa difesa entra nei migliori supermercati per difendere il tuo potere d'acquisto. È tutto vero. Fino al 30 settembre, Frollini, gocce di cioccolato Selex, ha soli 1,19 euro. Detergente Stoviglie Casabella Selex ha soli 99 centesi. Spesa difesa nei migliori supermercati e online. Selex non racconta storie. Goditi il grande calcio con Team. Scegli Team Vision Calcio e Sport. Puoi avere Dazon con tutta la serie Team e Infinity Plus con la UEFA Champions League. A 24,99 euro al mese. In più hai inclusi anche 6 mesi di Amazon Prime con Prime Video. E se vuoi vivere tutto al meglio attiva la fibra di Team. Vieni nei negozi. Team, la forza delle connessioni. Quando torni dal lavoro ordina un globo. L'ingrediente che ti manca è su globo. Se hai finito i pannolini vai su globo. Regali, pizza, fiori, globo. Ordina ciò che vuoi. E balla come vuoi. Ding, dong, globo. Ding, dong, globo. Ding, ding, dong, globo. Scarica la app e ordina un globo. Ci andiamo noi. Sai, ultimamente ho un problema. Cioè non vanno così bene le cose a... Ah, intendi nella tua vita intima. Io prendo Neradin. Per una vita attiva sotto le lenzuola. Neradin. Con zinco per il mantenimento di normali livelli di testosterone. Specifico per gli uomini. I nostri voli non collegano solo città. Vanno da Carol e John a dove tutto è iniziato. Perché un momento speciale può durare per sempre. Ogni nostro volo parte e arriva da voi. I ragazzi usano un po' l'asciugamano e diventa inappiccinabile. Ecco perché uso le Nord Unstoppable ad ogni lavaggio. Così il mio bucato resta fresco per settimane. Nelle marche tutto ha un gusto buono e salutare. Buono e bio I nostri polli sono biologici, italiani e molto buoni. Solo da Lidl scopri sempre tante offerte per la tua auto. Chiave dinamometrica a 19,99 euro. Porta oggetti o tappeto cattura sporco a 4,99 euro. Copri sedile per auto a 4,99 euro. Lidl. Anch'io. Lo abbiamo spesso visto così. Cadarella. Ma se lo vedessimo più definito? Cadarella. Mi scappò. C'è da rifarsi gli occhi con il commissario più amato della TV. Dopo più di 20 anni tornano i primi 4 episodi della lunga serie in versione totalmente restaurata con la magia del 4K. Mi sembra il cugino di Cadarella o un impiegato dell'anagrafe mi sembra. Perché deve fare sempre così? Il commissario Montalbano. L'emozione cominciò così. È permesso? Cosa? Le prime 4 indagini in 4K da mercoledì alle 21 e 25. Rai 1. In diretta dalla scuola Curi di Torini di Grugliasco in provincia di Torino. Tutti a scuola. Il programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Studenti, insegnanti, sportivi, cantanti e attori insieme per una grande festa. Conduce Flavio Insinna con Roberta Ray. Tutti a scuola. Venerdì 16 settembre 16 e 30 su Rai 1. Eccoci qui. Siamo qui con Rosalinda Celentano e Simone Santercole entrando e uscendo dalle notizie che riguardano la salute della regina Elisabetta. Che ti colpia? È dura? Sì. Beh, perché è un'icona pazzesca. Come fai a... se viene a...